Soluzione dell'equilibrio. Noi bisogna essere equilibrati nelle sensazioni, nell'analisi e in tutto il resto e non andare mai in over di pessimismo o in over di ottimismo. Quindi i nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio e quindi bisogna prenderne atto e cercare di fare il salto di qualità definitivo, che è quello. Non so se dovrei essere orgoglioso io, ho incazzato Zaccagni per non aver fatto questo qualche anno prima, perché lui le qualità per far questo ce l'ha secondo me da tempo, io quando lo vedevo avevo questa sensazione. No, il tema è fatto che abbiamo spesso tante energie nervose, tante energie mentali e che ci sia una sorta di down. Questo è quello che ci ha separato dalla parte altissima della classifica in questo periodo e quindi o riusciamo a risolverlo o ci dobbiamo accontentare le posizioni di rincalzo. La tentativa è sempre bella di risolvere questa problematica, perché mi sembra l'unica cosa che manca in questo momento a questa squadra. La gestione dell'immobile ancora non è la mia, perché in questo momento immobile non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Quindi il ragazzo ha sensazioni fortemente positive, i medici sono un attimino più cauti, l'ecografia sembra pulita, però è una parola rispetto soprattutto ai medici in questo momento. Il ragazzo si vorrebbe mettere a disposizione, chiaramente a disposizione per qualche minuto, visto che non si è mai allenato ancora completamente o no. Poi ha fatto una parte dell'allenamento ieri, quindi vediamo i riscontri di oggi e poi i medici insieme al ragazzo decideranno.